Del premio Gir, 1000 metri, condizionata per anziani, partiti in questo momento. Dal centro del Cuneo, Penalty è veloce, cerca subito di prendere la leadership e lo steccato, glielo impedisce in To The Wild, che comunque tiene botta, in terza posizione c'è Mord, poi ancora Free From Me To Me, al centro della pista, alle cui spalle c'è Robranov, e poi Trust You. Prima parte di gara che è scivolata via in maniera non esagerata, ma Penalty adesso ha aperto già i rubinetti, perché si è preso lo steccato, gli altri che cominciano ad inseguire, il primo a andare in caccia è From Me To Me, dal centro della pista, ci prova Trust You, in To The Wild ancora in quota, Robranov che ha cominciato la sua progressione, perde terreno Mord in questa fase. Siamo a 300 dal palo con Penalty che è in controllo lungo lo steccato, gli altri che provano ad andargli contro con Into The Wild che si è messo sulle gambe dal centro della pista, Penalty contro Into The Wild, Penalty che è ancora in vantaggio, Penalty che tiene in questa prima corsa. Buono l'impatto anche di Into The Wild, terzo From Me To Me, il favorito assegno in questa prima giornata, è subito Dario Vargiù, al ritorno dal Giappone che dopo aver vinto a Milano vince anche la prima di Roma. 4 al primo posto, il team bot, i colori sono quelli della New Age, la quota al tot di 1,51 al secondo posto, Into The Wild, per il terzo From Me To Me è tutto per la prima. Grazie a tutti. Grazie a tutti